È l'ora della prossima tappa del tuo viaggio. Ma come? Non sarò più guerriero dragone? Diventerai guida spirituale della Valle della Pace. Pace interiore. Pace interiore. Togli i tuoi mari dai miei monti! Bambù, per favore. Bambù in pace. Con soia e sesamo. Mi piace. Ma no, dai, così non funziona. Tai Lung, grande fan. Quando possiederò il Kung Fu di ogni maestro malvagio, nessuno metterà in dubbio il mio potere. Nemmeno il grande guerriero dragone. E chi è? La più potente maga mutaforma. La Kamaleonte. Come la trovo questa, la Kamaleonte? Ti porto io dritto da lei. Ma sono un esercito! Dovremmo farci un nostro esercito. Cos'è questo posto? La tana dei migliori criminali e delinquenti. Sei una criminale ricercata? Sembri sorpreso. È sorprendente? Piccoli, attenti con quei fuochi d'artificio. La violenza ci frizza il pancino. Perché dovremmo aiutarvi? Possiamo sconfiggere la Kamaleonte. Insieme. Essere il guerriero dragone è la mia natura. Che ne so come si fa la guida spirituale. Che cosa hai in mano? Biscottino? Sei stato scelto per diventare di più di quello che già sei. Come lo facciamo? Rapido e indolore? Oppure lento e doloroso? Lento e doloroso! È il momento della sfida finale, Kamaleonte. Non siamo tanto diversi, io e te. Kadush. Sta indietro. Ora mi gonfio di botte. La sfida finale, Kamaleonte. La sfida finale, Kamaleonte. La sfida finale, Kamaleonte.